ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale justin apple io sono justin e oggi voglio presentare un gioco dal sapore estivo rimini mare negozi vita notturna e minigolf non so voi ma la voglia di minigolf è all'interno di ognuno di noi sin dalla nascita avrò giocato milioni di volte a quello fisico ed alcune volte ho anche provato dei videogiochi che cercassero di emularlo tutto inutile il divertimento scemava alla buca 2 quando ho trovato super stickman golf 2 sull'app store ho subito pensato un'altra delusione in arrivo ma non ho potuto non notare quel 2 che mi faceva pensare ad un successo della prima versione che aveva spinto la software house nutley cake a creare il seguito mi sono così convinto a scaricarlo e tutte le mie certezze sono crollate ero convinto che il minigolf fisico fosse per imprevedibilità compagnia situazione temporale fisica inemulabile e irraggiungibile come divertimento certo non si possono ricreare in un videogioco amici in serata di svago ma si possono scegliere diverse strade per far divertire l'utente anche oltrepassando i normali limiti fisici del minigolf classico la grafica del gioco sarà un interessantissimo 2d una scelta dei dev che non rimpiangerete mai i percorsi saranno stracolmi di pareti epcivose tunnel spaziali fossi senza fondo e tantissimo altro ancora non credo sia possibile avere più fantasia nel creare un game di 18 buche oltre ai divertenti ed improbabili ostacoli del percorso ci verranno fornite un numero limitato di palline speciali da utilizzare durante la partita dal mega rimbalzo alla pallina che trasforma l'acqua in sabbia ogni partita quindi sarà diversa e saremo noi a poterne decidere le sorti percorsi praticamente infiniti modalità single player multiplayer e a squadre una sezione lotterie dove puntare i soldi guadagnati nei percorsi sono solo un accenno di tutto quello che potrete trovare in super stick man golf 2 un eagle incredibile vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su youtube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video di seguirci su twitter siamo justin apple pod di mettere mi piace alla pagina facebook di justin apple vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast usciamo settimanalmente su con approfondimenti sul mondo apple siamo appunto justin apple ci trovate su itunes ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi che anche di tecnologia in generale di videogiochi insomma trovate tantissimi podcast vi ringrazio e alla prossima video recensione vi ringrazio e al contah